esatto io ho fatto il bacino oggi e io a questo lo faccio non me ne frega niente e non me ne frega neanche che ti hai fatto il bacino che mi dirlo prima potete dirlo prima adesso ormai ormai si è stata bombata mi spiace no 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 chiudi la porta per fortesia per l'amor al platino oggi e oggi ma come no mamma fa il bacino mettere la strada con il navigatore sbaglia strada mi faria 20 minuti ritardo mi facciamo dove cazzo stiamo andando e la saluti a tua mamma dici che è bellissima veramente una bella saluta vedizia e dice che sono bella donna magari staticamente interna mamma marcia ai capelli rossi grazie a chiudere in cantina mamma mia dicono che gli sketch con mamma cani sono tutti studiati ma magari ragazzi ma magari potente la vaccina 10 sono arrivata ai 10 e 20 perché ha sbagliato strada nooo mannaggia ero tilted io non faccio mai ritardo lo sai mai più o meno no no mai mai sì sì ma voi ragazzi siete molto più ritardo d'aria no scusa ritardo d'aria che lo scusa già non sapevi coniugare risata e ridere no ho detto vabbè sei una fallita sei una fallita non sai coniugare i verbi ma riso non è verbo a me aspetta ma questi non ho capito fina di che eri perché ecco la skin non l'ho riconosciuta che cazzo di skin di merda è ma dovrebbe andare così sto match up no niente non vinciamo mai noi in laning phase cioè io sono già ne contro un autos però devo maxare che palle che noia infatti dovremmo andare così ecco aspetta un po' di flame non rispettano il cane che schifo che fai mamma mia che tossico quando arrivi in di tre che tossico ma perché ho capito che ormai le persone devi battere di mental oh gli sto rubando tutti i miei non fa niente servo io perdiamo perdiamo è troppo recita l'oreggiunger topside se mi gancho l'off sono morto sicuro vai bro puttana zocco la troia che non mi da vision è morto il mio non devo flasciare in muori all'off top e flash vabbè dai non abbiamo giocato a malissimo flash olaf no non c'è la frizzano sono stupidi meno male meno male dai il d2 non sanno ancora come si gioca league of legends ok vain tu sei già mutata comunque mi dà già fastidio chi è la q grazie ma con chi cazzo stai parlando con me stessa io parlo sempre madonna tutte le ragazze parlano da sole solo ci sono dentro mi madre che cazzo c'è a casa che cazzo è a casa anche quando pulisco donna di dio ma che allucinante ma mi sento sola mi sento sola i miei parto lo cosa faccio io dove vanno insomma è qua a tutti fine settimana a due settimane no a vanno gio a fare a finire le case mi approfittano magari potrebbero rilassarsi no a chi cazzo dicendo si rilassano da quando sono apparse le case in sardegna foto quando ci sei tu allora dimmi adesso ok che sono nata in ritardo poverini sono andata a settembre al posto di agosto ma in realtà meglio se nascere questo era peggio ma no magari stanno si stanno divertendo un po erano in sardegna forse stessano facendo mare nel cing e sta per morire queen vabbè io tolsono è solamente bene off dovrebbe essere bot side sì sì olaf è bot side era fare il crab il signore sto tankando io bro non ho capito che cazzo di david voglia fare onestamente contro un autilus sei un po cringe ora ti grabba che culo ducco con cane lupo immagina dove siamo finiti ma io l'ho chiesto io l'ho chiesto abito e tolba facciamola c'era la domanda ma non ce la vai 15 per chillare 12 10 9 ma mia siamo un po via cazzo dai un attacco base siamo morti quindi mid perde bot perde molto bene no 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 e kain che non so che cazzo di giro abbia fatto veramente kain era proprio che cazzo fai kai 2 tentando ciao già jory hawk non riusciva a leggere il nome giallo porco duro che c'è lì estate vabbè io inizierò a mare senti vain mi ha rotto i coglioni sono avuti in caso grazie per il pollo non so bene anche la mia ulti no no alla ulti lui no non la usa nemmeno si lascia andare chi ha l'auti olaf ma se al 5 porco zio bro non ci vedo vedo un cazzo vedi a giocare con le lenti a contatto mi si appannano ho visto il 6 è normale che si appagno sì sì perché sono lenti che vanno bagnate ogni due ore grazie per il fallo ragazzi non ci sono altri tipi di lenti perché non non mi hai messo lenti contatto no perché ho meno 6 io quindi devo usare ma di eq senti inizia cani scusami ma te lo meritavi però c'è guannaudius questo ha flashato sì bro però facciamo qualcosa eh che dici io ho preso la prossima web e regallo e mi avevo verso il bot perché mai io non ho vabbè che bottling sfigata che siamo davvero c'è io non ho parole per sta bottling questo qua che cazzo fa qua c'è pure vladimir io sto morta la giga morta va niente non so prendersi la fritta vabbè vabbè anche due coglioni cazzo è figa potremmo andare più in là di così vai vai posso volcare bot se vuoi no 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 bro che cazzo fai senti io ho il tp tra un minuto aspettiamo il mio tp poi facciamo su un bot che dici giocata da meno 6 più bro non ho la ulti io contro vladimir che cazzo faccia c'ha vladimir non è un champion con le mani ok vladimir di premere w e q wow no è il w sì ma nel senso ha fatto w e esplosione giusto per doggiare il tornado capito per farlo swag point capisco non serviva un cazzo neanche quella w immagini i giocatori di vladimir quanto devono essere felici ok dai tutto evitato perlomeno di aia gianna deve premere qv e bro gianna rispetto a vladimir è un po week è un pochino è beh sì è vero non si resta una flash ignite ha due kill vabbè dai ci sta io regalo posso ultare ti pare se volete dica alli booster player di a suo si da giuseppe per appare il suo player vabbè niente non si sa dove è nato prendendo giusto un po di cazzo non posso fare bro mi counterano non sono morta spam per lo meno giuseppe sta prendendo un bel cazzo si grazie per il supporto ti ero uno si ci visite benvenuti cani canese welcome back vogliono dai baci posso ripare fate ripetare se poi c'era ulti due se vengono troppo lì ti posso ripare io c'è olaf guarda che è qua vai tranquilla vai tranquilla no bro stai vabbè ha ultato olaf non ho capito ok andrei back andrei back adesso va bene ma che cazzo perché ha ultato quindi è morto però puscio la wave e posso arrivare a bot ok porco zio aspettate che puscio la wave devo pusciare a wave sì ma intanto io voglio il 6 grazie per il follow ciao c'è ari come stai yesu players yeah mamma mia eh non posso non c'è una buona award per andare a bot eh la sto mettendo se solo mi lasciassero respirare due secondi eh sono andate via ah guardate via no ok ho ulti a posto ora possiamo fightare un po' di più no li pushiamo some will saranno qua quanto ho ulti exhaust vinciamo in casa io sono andato a prenderlo bene bene dai a parte che ho sto nervo del collo che mi sta tirando la vita bro eh guarda non posso vittare per lo 2 e 8 quello lì vabbè andiamo su di io non posso vittare adesso avrò un 2 e 8 e poi regalo arrivo da voi io non posso seguire vladwin 1v9 eh 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 po' di v1 1v2 1v1 pezzo di merda so che devo fare la way però c'è questo eh sopra gridano vengo io ogni pick no io muto gli asù arrivo arrivo sì 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 va bene tutto a posto qua eh e vladwin mi hanno usato tutto su di me flash e quina eh ero vicino aspetta solo un po' di più eh vabbè ma è normale noi prendiamo il cazzo bot che id oh cadroia ma push a mid ma che cazzo viene i bot vabbè io non c'ho parole vado io mid ma e lui deve fare sta cosa sono tutti concentrati là sì infatti era meglio prendere tower mid o prendere plate no ma abbiamo le c'abbiamo le herald c'abbiamo le free tower mid vabbè ma cosa vuoi fare dei game player sì dive pure ah mi sembra proprio vlad è qua eh credo che che inizio lo faccia vlad 1v1 forza deve guarda che ha la w lui ancora ha anche flash ah infatti devi ah oh mamma mia non ho capito quella cosa di flash veramente oh io ho svettiltato un pochino un passo di lì vaffanculo la fregola arrivo assoluta r retton 1r c'ero swap dorme vado ok era il mid ma quello lì rimane sempre così quando mai non ho piccato ignite nella mia vita no la nostra botline è spiegata davvero oh no è spiegatissima oh l'ha fatto upside meno male che kain è forte in late anche kain è forte controllabile quello è buono sì sì no ma non ha fatto blue kain avrei avuto paura l'unico problema è che ci serve executioner e non se lo stanno buildando i nostri ah è l'accessare vain poraccia che è veramente out proprio fuori dal game vain c'è qui nel top ignight queen credo no cazzo mi sembra mi ha inventato boh è bad ah c'è la brambor nevermind posso venire campunk però adesso nankton è morto è qui in top è qui in top come c'è per noi e non c'è per il drago dobbiamo contestare questo drago assolutamente signore share grazie a tutti i suoi mesi e benvenuto nei cani di cane sir come va signor share welcome back e tra l'altro signor giuseppe mi chiedo scusa mi sa che prima non l'ho ringraziata a tier 1 ah no invece l'ho ringraziata ringrazi un'altra volta ringrazi un'altra volta è benvenuto nei cani di cane bro grazie il meme dei rivals arrivo arrivo ulti tra 50 ma l'era non l'abbiamo più messo noi guarda che possiamo fare noi di questo è netton top e no tp ma la facciamo go lasci blood è ancora in base appena responato ma non possono contestarlo vabbè è morto quello buona shutdown su vain è setta oh madonna jasù ti muto porco dio jasù porco 2 jasù scusami porco 2 devo smettere di bestemmiare yeah però un po' mi banni mannaggina jasù mannaggina se mi dai uno scudo posso prendere la torre ok ultro non ho scudo non ho scudo no non sei morto stavo attaccando per clinica faccio la oh bello non hai healing vero mi metto davanti a te oh c'è queen dicendo da mili vain guarda guarda eh non c'ho word immagina non avere word in questo preciso è potevamo rimanere dentro nooo nooo hanno surrendato nooo what queen è andata afka immagina si queen era afka wow hanno surrendato così early è il terzo game che finisca il quale cazzo è sempre merito tu perché questa botta l'hai veramente stravinta top diff l'abbiamo stravinta l'hai visto che hai fatto leo era un altro turco immagino ah tutti su nocturne meritati cianek ci sentiamo in game signorinago si tranquillo a dopo a dopo ho la fin